Con i martedì al cinema l'obiettivo è quello di riportare il pubblico nelle sale cinematografiche con opere di qualità e riaffermare il ruolo delle sale di spettacolo con presidi culturali nel territorio, in particolare quello Veneto. Si sta per concludere il secondo mese dei martedì a 3 euro in collaborazione con la Regione Veneto che ci dà la possibilità, soprattutto dal pubblico, la possibilità di venire a vedere dei film in prima visione o anche in seconda visione al prezzo di favore di 3 euro. Molto buona la partecipazione del pubblico per questa edizione primaverile. I prossimi appuntamenti al Cinema Italia Belluno saranno il 24 maggio con After Love e Come On Come On ed il 31 maggio con Il ritratto del Duca. L'iniziativa è andata molto bene, devo dire. I film che sono andati meglio sono stati Ennio, Belfast, Corro da te che comunque erano già stati fatti ma poi ne sono stati fatti altri come Il male non esiste che aveva vinto il Festival di Berlino o una madre, una figlia e altri ancora che avevano vinto altri premi nei maggiori festival italiani. L'iniziativa riprenderà poi a novembre e sarà anticipata da altre proiezioni che faremo in collaborazione con la Regione Veneto dopo il Festival di Venezia.